E allora siamo sicuri che ci siano le quattro parole giuste? Beh, direi di sì, spettacolo. Rubriche, Orazio, Cronaca, sono le quattro parole fondamentali. Ce ne sono molte altre, forum, l'angolo della spesa, parliamo. Sì, ma per il nostro gioco sono fondamentali quattro parole. Dai allora, facciamo la domanda. Qual è la quinta parola, quella che abbia un nesso logico con le quattro parole che vedete qui su questa lavagna? Insomma, qual è la trasmissione che contiene queste quattro cose? Spettacolo, rubriche, Orazio, Cronaca. Qual è questa trasmissione? Buona domenica! E allora ricordate, una vera domenica è soltanto buona domenica. Buona domenica. Domenica prossima alle 13.30 su Canale 5.